Ciao ragazze, io ho vinto un giveaway per la prima volta da quando partecipo ai giveaway e devo ringraziare Francesca che è una ragazza dolcissima e vi lascio il link al suo canale qua giù, iscrivetevi perché è davvero tanto dolce e niente, lei ha fatto questo giveaway con dei prodotti Xea che io non avevo mai provato e i prodotti sono arrivati stamattina, quindi io non so dirvi se sono buoni o meno allora uno è questo qua, che è un gel detergente per il viso, trattamento termopurificante e sono 150 ml di prodotto ed è questo bello cucino cicciotto senza parabeni e senza coloranti e vabbè, si utilizza come un normale gel detergente la profumazione per adesso dalla scatolina mi piace perché sa di fresco poi dentro c'è anche il fogliettino illustrativo, credo poi nel pacchetto c'era anche una crema normalizzante superidratante sempre un trattamento termopurificante questa sono 50 ml sempre senza parabeni e senza coloranti questa per adesso sembra molto ma molto liquida infatti ne sta uscendo un pochino però come profumazione mi piace anche questa perché sa di fresco, sa d'estate e proveremo tutto naturalmente farò una recensione completa quando avrò testato un po' i prodotti e poi c'erano 5 fiale di olio mineralizzante per i capelli perfetto per chi ha i capelli secchi, trattati i miei praticamente ed erano 5 ve ne faccio vedere una sola perché ho paura di romperle tutte e 5 devo dire che comunque lei è stata carinissima perché queste qua, queste fialette visto che sono di vetro le aveva impacchettate tutte nella carta quella con i buchini tutto molto ben impacchettato vabbè si sa che quando arriva il pacco qualcosa è sempre rovinato ma l'importante non è la confezione il cartone ma il prodotto in sé per cui io la ringrazio tantissimo vi consiglio di iscrivervi al suo canale e niente, noi ci vediamo al prossimo video un bacio, ciao ciao